Lei è anche la nuova testimonia della campagna di Telecom. Di Telecom la parte internet, no? Sì, 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 mi sono molto divertita, devo dire la verità. Come si trova a fare la mamma di Savino? Molto bene, anche perché conosco Savino da 12 anni e devo dire, è stato un ottimo compagno di giochi e poi abbiamo avuto Gabriele Muccino che è un ottimo regista, per cui devo dire, sono stati tre giorni molto belli. Grazie, buonasera.